7.000 migranti di almeno 30 nazionalità, con le loro bandiere agitate sotto la finestra del Papa in Piazza San Pietro, quasi un saluto alla loro terra, lasciata perché impossibile restarci e sopravvivere. Il dopo Angelus è stato scaldato dall'affetto manifestato da Francesco ai tanti immigrati che hanno voluto dare corpo con la loro presenza, nel contesto dell'Anno Santo, al Giubileo dei Migranti, celebrato in coincidenza con la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. presente tra la folla anche la Croce di Lampedusa, realizzata con il legno dei Barconi e benedetta dal Papa durante la sua visita sull'isola nel 2013. Francesco, che ha anche ricordato le vittime dei recenti attentati in Indonesia e Burkina Faso, ha voluto ringraziare i detenuti del carcere di Opera per aver confezionato le 5.000 ostie utilizzate nella Messa Giubilare dei Migranti. Cari migranti e rifugiati, ognuno di voi porta in sé una storia, una cultura, dei valori preziosi e spesso purtroppo anche esperienze di miseria, di oppressione e di paura. La vostra presenza in questa piazza è segno di speranza in Dio. Non lasciatevi rubare la speranza e la gioia di vivere che scaturiscono dalla svedienza della Divina Misericordia, anche grazie alle persone che vi accolgono e vi aiutano. Grazie a tutti.